Questo è quanto il mare nasconde sulle spiagge, sugli arenili e che significa? Significa che le isole di plastica non sono solo nel Pacifico ma sono dovunque lungo tutte le coste per cui è necessario e immediato fermare questo massacro non solo dell'ambiente e dell'ecosistema marino ma è un massacro che attraverso le microparticelle di plastica arriva direttamente nella catena alimentare. La forte mareggiata dei giorni scorsi ha completamente ricoperto di detriti l'arenile della spiaggia di Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli. Sin dalle prime ore del mattino l'amministrazione comunale con il servizio tutela mare e la cooperativa 25 giugno ha provveduto alla raccolta dei rifiuti dalla spiaggia. Gli addetti alle pulizie sono stati impegnati per tutta la giornata nella rimozione del materiale rinvenuto ed in particolar modo della plastica e del polistirolo per restituire decoro a tutta l'area.